Guarda, io credo che il cortometraggio sia un esercizio straordinario, che poi non è tanto. Un esercizio vuol dire che dà non solo la possibilità, ma anche la grande difficoltà di raccontare in un breve tempo una storia completa. Di raccontarla non solo nella maniera più efficace, ma anche appunto di avere un inizio, un percorso, una fine, e quindi con tutte le attenzioni tecniche, quindi buona fotografia, buon montaggio, eccetera, eccetera. Io lo paragono spesso il cortometraggio alla poesia, perché la poesia è quel luogo in cui, per esempio, parlo io da attore, ma anche chi scrive la poesia deve, in un componimento abbastanza breve, dare tantissime informazioni, tantissime emozioni. Abbiamo ucciso il vosso Pompare al Tomolo. I prossimi siete voi. Il delitto Mattarella, con la regia di Aurelio Grimaldi, doveva uscire il 19 marzo nelle sale, e evidentemente le ha trovate chiuse. È rimasto lì un paio di giorni, poi ha visto che nessuno gli apriva, è andato via. E quindi è uscito d'estate, quindi in una distribuzione estiva, che proprio non è il massimo, però comunque è stato distribuito d'estate. Lì ho il grande onore, la grande responsabilità di interpretare Pier Santi Mattarella, che era il presidente della regione siciliana, che venne appunto ammazzato dalla mafia. Adesso una cosa interessante è che, proprio questa settimana, il 16 venerdì, però da qui andrò a Palermo a fare una lettura dei verbali, delle audizioni fatte dalla commissione parlamentare antimafia sul depistaggio Borsellino. Quindi c'è Claudio Fava, che è il presidente della commissione antimafia, noi facciamo proprio le letture dei verbali. E poi ci stanno progetti, sia teatrali, che è cinematografici. In questo momento il teatro soffre un po' di più. Dico anche il cinema, perché poi io non capisco perché sembra che non ci sia un'attenzione nei confronti della struttura. Non capisco perché non si riesca a pensare a una fruizione non contingentata da parte del pubblico. perché obiettivamente quelli che possono riaprire, se parliamo di teatri, sono quelli che hanno i soldi, chi è partecipato, altrimenti ci si campa sullo sbigliettamento come si dovrebbe fare. Quindi è tutto abbastanza strano, però vabbè, vedremo.